Una corona dall'oro per ricordare chi per primo iniziò a lottare per difendere la nostra libertà. Il capo dello Stato ha omaggiato a Porta San Paolo il sacrificio dei cittadini romani e soldati dell'esercito italiano che tentarono, eroicamente ma in vano, di impedire ai tedeschi di entrare a Roma. Era il 10 settembre di 80 anni fa. Due giorni prima, l'8 settembre 1943 alle 19.42, la voce del maresciallo Badoglio, primo ministro del Regno d'Italia dal 25 luglio, dall'arresto di Mussolini, aveva annunciato alla radio l'armistizio con gli angloamericani, firmato cinque giorni prima a Cassibile, in Sicilia. Nella notte il re Vittorio Emanuele III, con la corte e il governo, fuggono precipitosamente da Roma alla volta prima di Pescara e poi in nave a Brindisi. E mentre inglesi e americani sbarcano a Salerno per risalire lo stivale, le truppe naziste occupano il centro-nord dell'Italia. Le nostre forze armate, nei confini nazionali e oltre frontiera, sbandate e senza ordini, sono lasciate da sole a decidere se continuare a combattere con i tedeschi, se arrendersi, se resistere. E come loro, migliaia di italiani e italiane, chiamati a vivere gli anni più duri della Seconda Guerra Mondiale. L'8 settembre segna una frattura profonda, una frattura della nazione. È un'Italia che non spera più, che tragicamente ha perso ogni prospettiva di sopravvivenza, ogni prospettiva di futuro. Con i tedeschi in casa manca il futuro, ma al contempo l'8 settembre segna l'inizio di un periodo di riflessione su un possibile riscatto, una riflessione profonda sugli errori fatti, sugli errori ricommessi e il tentativo di rialzarsi e di ridare degnità a una nazione che da troppo lungo tempo l'ha persa.